Chi è Paola Caruso? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla giovane showgirl e curiosiamo insieme nella sua vita. Chi è Paola Caruso? Paola Caruso nasce il 17 gennaio del 1985 a Catanzaro. La ragazza è alta 1,77 e pesa circa 68 kg. La giovane showgirl inizia i suoi studi al liceo diplomandosi e successivamente si laurea in giurisprudenza. Solo da pochi anni la giovane ha confessato davanti a milioni di telespettatori di essere stata adottata. Proprio qualche anno fa infatti Paola ha finalmente conosciuta la sua vera mamma biologica nel programma di Barbara D'Urso. La sua grande passione fin da piccola però è quello di entrare a far parte il mondo dello spettacolo, riuscendo a scalare il successo passo dopo passo. Carriera Paola Caruso Paola inizia la sua carriera televisiva partecipando per la prima volta nel programma di Maria De Filippi, partecipando come corteggiatrice di Ferdinando Vitale intorno al 2007. Ma il suo più grande successo arriva proprio nel 2016 partecipando al programma di Canale 5 avanti un altro di Paolo Bonolis, conosciuta come la Bonas, successivamente partecipa all'Isola dei Famosi dove ci rimane per diverso tempo e dove avrà delle antipatia con Jonas Verami e Mercedes Schenger. Ma qualche anno dopo partecipa a Pechino Express. Paola Caruso Chi è il fidanzato? La giovane showgirl oltre ad occuparsi della sua carriera, si è dedicata all'amore. In molti infatti sono a conoscenza della relazione con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano, relazione che però non continua. La ragazza inoltre inizia a frequentarsi con l'ex tronista Daniele Interrante. Successivamente il gossip paparazza insieme a Luca Sperachi e successivamente con Andrea Casalino, conclusa quando il giovane ha incominciata a girare la fiction Rodolfo Valentino in Bulgaria. Successivamente la giovane si unisce a Dario Socci, ma la relazione anche in questo caso termina ben presto anche con il giovane. Ma Paola oltre a pensare all'amore si deve occupare anche del suo bambino, avuto dalla relazione con Francesco Caserta. La storia tra i due infatti ha fatto sparlare e non poco il gossip. Il giovane infatti non ha voluto riconoscere il figlio cercando di screditare con qualsiasi modo e mezzo la giovane showgirl. Il ragazzo infatti non ha voluto sapere nulla del bambino prendendo le distanze da Paola e dalla sua famiglia. Instagram per quanto riguarda invece i social, come tutte le sue coetanee anche la bella Paola è molto attiva sui social. La ragazza infatti usa spesso Instagram, dove pubblica foto e video della sua giornata e comunicando spesso anche con i suoi fans. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.